Buonasera Michele siamo qui sai bene dove ormai da quando hai acquisito clienti di una certa rilevanza ci hai abbandonato io e il dottor Sorin però non smettendo di lavorare abbiamo ritirato da un amico che ce l'ha prestato solo per fare quattro riprese questo splendido m40 che Sorin ha portato qui in moto come vedi è come nuovo Michele poi un giorno ti pentirai di averci abbandonato in questa maniera repentina intanto andiamo a vedere unico proprietario targa originale for lì guarda che interni guarda impeccabile come se fosse nuovo ancora lavora dal nostro gommista ha anche il contagiri per fare le corse ed eventualmente il riscaldamento autonomo che va a gasolio detto ve basta guarda che cruscotto guarda che sedile chiaramente è gommato perfettamente perché è del gommista ha il compressore per eseguire i lavori su strada ha la centina che si apre ad ali di gabbiano e quindi niente noi Michele ti aspettiamo speriamo di rivederti presto nel frattempo facciamo qualche ripresa giurassica in maniera amatoriale perché non siamo dei professionisti come te comunque lo m40 della pneus rimini ti saluta ciao